Da quando esiste questo filtro sto solo pensando a ricrearlo col make-up, quindi oggi ci proverò insieme a voi. Questa sono io che provo ad analizzare il filtro. Ok. Non dovrebbe essere troppo complicato, iniziamo. Ho appena fatto cadere tutti gli spielli a terra, aiuto! La base è molto leggera, andrò ad usare questo di Fenty Beauty. Le sopracciglia le lascio così, le pettino e basta. Se bisogna fare un po' di contouring, vado ad usare questi due, blush contouring, soprattutto al naso. Qui dobbiamo proprio farlo tipo a pallina il naso. Porto il bronzer del naso anche un po' nella piega dell'occhio. Devo sbrigarmi perché non ho tempo per gli occhi, faccio una linea marrone con l'ombretto e la sfumo. Mascara e con lo stesso pennellino mi disegno 300 lintigini. Picchietto e rossetto sulle labbra. Questo è il risultato finale. E questo è il filtro.